Per quello che riguarda abbondanza ai registi diciamo che c'è caduta sopra la disgrazia perché c'è Daniele De Rossi che è infortunato, poi abbiamo Marco che ha avuto questo brutto colpo e dovremmo valutarlo poi attentamente, che tipo di situazione. C'è Andrea che ha giocato ieri dopo tanto tempo, ha fatto anche secondo me una discreta partita e adesso c'è Tiago Motta anche, quindi valuteremo bene le situazioni di Marco Verrati perché può anche essere che possa essere convocato a Pirlo, ecco, se non dovessi avere delle certezze sul recupero comunque essendo i tempi molto stretti ho bisogno comunque di gente, Andrea ieri ha dimostrato di stare bene se dovesse essere che ci sono tempi un po' lunghi per il recupero di chiamare anche Andrea, ecco.